ciao a tutte ragazze bentornate in un nuovo video oggi un video unboxing bello succulento perché andremo a spacchettare insieme il pacchettino il pacco bello pesantuccio che mi è arrivato da nel shopping beauty che è un negozio fisico che rivende moira che mi ha inviato e ha gentilmente iniziato questa collaborazione con me per quanto riguarda appunto i prodotti di moira mi hanno inviato tantissime cose quindi ora piano piano ve le farò vedere tutte ve le vorrò andare a vedere nel dettaglio qualcosina ve l'ho già spoilerata su instagram però poi proseguirò a farvi dei video tutorial dei reels qualcosa di molto carino qualche post allora io non mi perderei troppo in chiacchiere perché le cose sono veramente tante quindi e iniziamo a farvi vedere un po di cosine allora volevo partire diciamo dalle cose più facili poi dopo vi faccio vedere le cose ancora più succulente allora mi sono stati inviati questi due foil il blu elettrico che sapete il mio colore preferito per eccellenza e il dorato quindi sono questi due foil che sicuramente andremo a utilizzare insieme poiché mi hanno inviato anche dei prodottini adatti allo stamping e soprattutto adatti per andare a attaccarci poi sopra il foil quindi piano piano adesso vi faccio vedere tutto poi mi hanno inviato questi tre pacchettini di stickers che sono uno più bello dell'altro allora c'è questo qui praticamente però al contrario che ha tutte queste fascettine di dimensioni diverse e sono nella tonalità argento nera quindi questo qui in realtà no è black però da anche un black lucido quindi può sembrare all'occhio anche argento poi abbiamo questa texture bellissima di questa decorazione catenella ma veramente fantastica veramente elegante in questo color oro rosa qui invece abbiamo sottili sembrano delle catenelle appunto di braccialetti veramente molto elegante e infine mi hanno inviato questi stickers bellissimi queste invece sembrano molto le maglie appunto di collane braccialetti veramente carino questo qui sicuramente lo andremo a utilizzare insieme in qualche video refill quindi mano mano poi li inoltrerò nei miei video poi per quanto riguarda i glitter ragazzi mi hanno inviato una marea di glitter di stardust di polveri ora ve le faccio vedere tutte allora partiamo da questa boccettina da 5 grammi di glitter powder quindi questa qui è una praticamente una polvere glitter che poi andremo a vedere insieme come andarla a utilizzare è bellissima in questa colorazione lilla mi pare sì un lilla rosa bellissima questa poi andando avanti mi hanno inviato queste due polveri queste qui sono le mirror quindi sono l'effetto specchio una nella versione verde e una nella versione viola quindi purple ora senza fare danni vorrei semplicemente farvele vedere allora questa qui è la polvere purple bellissima spero di non sporcare quasi nulla anche perché è una polvere davvero talmente sottile che volo ovunque infatti ora credo di dover mettermi la mascherina poi abbiamo questa verde guardate che bella ma è davvero luminosa poi sotto queste luci guardate wow stupenda poi andiamo avanti vi faccio vedere la questa qui che è praticamente la shell effect powder dovrebbe essere una sorta di effetto sirena effetto aurora comunque poi la andremo a vedere insieme in un altro video magari vi faccio poi vedere tutti magari vi faccio un video dove vi provo le polveri video dove proviamo gli stamping perché in questo video ci sono anche gli stamping poi abbiamo gli stardust allora questi sono la mia gioia di questo unboxing perché sono sia nella colorazione bianca bianco oro bianco diciamo bellissima e poi c'è questa qua color questa sorta di prosecco questi qua non li ho ancora aperti proprio perché volevo vederli in anteprima wow in anteprima con voi questo è un colore veramente fantastico mamma mia fa bene proprio al cuore guardare questo colore bellissimo ora che finisco il video ve li faccio vedere anche su instagram e poi abbiamo questi bianchi mamma mia ditemi se non è qualcosa di stupendo vabbè diciamo che tutto ciò che fa parte dei glitter e polveri di moira è qualcosa di indescrivibile poi mi hanno inviato questi qua che sono praticamente i flakes questi qua sono arcobaleno wow molto molto belli questi qua vanno bene stesi sulla dispersione ma si attaccano anche su uno strato senza dispersione però io poi preferisco sempre andarli a sigillare oppure incastonati in qualche struttura no vabbè francese muretto vogliamo vogliamo poi abbiamo queste due polveri queste qua sono magnetiche quindi dopo aver steso una base nera possiamo andarle a stendere con il dito diciamo sì con il guanto sul nero e poi possiamo andare a calamitarli appunto con la calamita vi faccio vedere anche questi nel dettaglio questo qui è però se ne perde davvero tanto quindi di questi qua diciamo che eviterei al momento poi magari guardate se ne è perso un po' quindi mi dispiace per ne perdere ancora dicevo queste due polveri magnetiche questa qui sul viola fucsia e questa qui sul verde blu poi altre due polveri olografiche queste qua allora io queste non le ho ancora aperte le apriamo insieme wow ma questi sono glitter veri e propri cioè questi sono fantastici wow c'è del blu e dell'argento all'interno ma sono spettacolari wow anche questi ve li faccio vedere su instagram appena termino il video e poi abbiamo questi qua vediamoli vediamoli insieme wow questi sono un attimino più bronzati un bronzo nero ma sono di un'eleganza unica bellissimi bellissimi mamma mia ringrazio tantissimo nel shopping beauty perché sono veramente bellissimi bellissimi non me l'aspettavo questa qui invece è una polvere camaleontica eccola qua spero di riuscire a farvela vedere senza fare recare danni guardate che bella stupenda wow fenomenale fenomenale questa qui anche va stesa su una base nera e poi va sfrigata come tutte le altre polveri ok adesso direi che possiamo passare alla parte stamping prima di farvi vedere gli stamping giusto qualcosina vi voglio far vedere questi gel painting UV ovviamente UV LED quindi sono dei veri e propri gel e sono questi due stamping appunto e painting ovvero possiamo utilizzarli sia sulle sulle piastre quindi per farci gli stamping sia per andare a creare delle decorazioni al me hanno inviato questa colorazione rosa rosa sì dalla fotocamera forse sembra troppo fucsia ma in realtà è veramente un rosa molto un rosa pastello ecco un pink e poi invece mi hanno inviato quella nera che è black la faccio vedere un attimino allora non ho capito se è nero o un blu scuro comunque poi andandolo a provare vedrò a me comunque sembra un blu scuro più che un bianco più che un nero perché vedo i rimasulli laterali che sembrano danno dei andando i riflessi sul blu quindi questi due poi mi hanno inviato due mini semipermanenti che sono questi colori primaverili barra estivi il numero 204 che è bellissimo questo è un albicocca fluo stupendo adesso magari ve li faccio vedere estesi anche questo qui ops anche questo qui che invece è il 205 ed è ancora più acceso dell'altro quindi 204 205 e infine mi hanno inviato questo semipermanente invece sul rosso che è il numero 13 eccolo qua questo è veramente bello ed è ad altissima altissima densità guardate un attimo cioè stupendo adesso li andiamo li vado a stendere e ve li faccio vedere allora ho steso questi due mini da 5,5 ml queste sono le sue colorazioni allora abbiamo questo albicocca acceso e questo corallo acceso bellissimo aspettate che li ho messi al contrario li ho anche stampati numero 204 205 sono molto pigmentati e poi invece abbiamo questo rosso che è un rosso molto molto corposo quindi questo qua è molto corposo quindi va lavorato bene su lunghi altrimenti lascia dei bozzi come densità diciamo che è alta altissima anzi faccio continuare la polimerizzazione e continuiamo con adesso iniziamo con gli stamping allora cominciamo dalla prima cosa che serve appunto per gli stamping ed è il timbro sto attento a non toccarlo allora questo qui è trasparente qui è vuoto e serve appunto per andare a vedere dove stiamo andando ad applicare il decoro all'ora questo qui appunto serve per andare a trasferire il disegno sulla tip o sull'unghia che stiamo andando a lavorare come vanno trattati gli stamping non vanno utilizzati cleanser non vanno utilizzati pad imbevuti di qualsiasi cosa ma semplicemente va utilizzato un rotolo per quanto riguarda i pelucchi ecco questo qui è un rotolo che io non ho ancora aperto è un rotolo come quello che abbiamo per i peli del cane per i peli del cappotto, del giubbotto, delle maglie per andare a pulire la superficie quindi non vanno utilizzati cleaner o altri prodotti liquidi altrimenti il timbro si rovina e vede da buttare semplicemente quindi questi due fondamentali poi abbiamo tanti tipi di smalti mi hanno inviato tutti questi smaltini vi faccio vedere allora prima di tutto il bianco classico bianco la prima volta che li apro guardate che bello molto molto acceso poi abbiamo questo blu stupendo wow è un blu elettrico poi poi andiamo avanti con l'argento eccolo qua poi abbiamo questo azzurro polvere tendente al petrolio ha qualche riflesso sul verde bellissimo anche questo poi invece abbiamo questo verde che è molto molto carino questo verde perlato wow sono molto metallizzati e poi infine questo oro appunto si chiama gold eccolo qua allora i numeri se siete interessate sono sp9 gold sp27 sp05 blu poi abbiamo l'sp07 che è il bianco sono tutti da 12 ml sp08 silver ed sp26 questo qui questo azzurro quindi questi qui invece sono gli smalti classici adatti agli stamping con questi bisogna essere molto veloci a trasferire il disegno sulla tip o sull'unghia che stiamo andando a decorare una cosa che avevo dimenticato di farvi vedere è questo top coat no wipe effetto matte lo andiamo a aprire insieme la prima volta che lo guardo ha questa texture leggermente opaca bellissimo non vedo l'ora di andarlo a testare poi ah ecco insieme al timbro ovviamente non poteva mancare lo scrapper guardate che bellissimo questo serve appunto per andare a togliere i residui di colore sulla piastra che adesso vi farò andare a vedere una per una poi mi hanno inviato due transfer foil allora questi oltre ad essere smalti semi permanenti quindi attenzione sono UV led oltre ad essere dei semi permanenti stamping funzionano anche da transfer foil quindi io con questi due prodottini che sono appunto FP05 red ed FP03 silver quindi rosso e argento guardate che bello questi sono oltre che appunto stamping possiamo andare a utilizzare anche per andare a trasferirci i foil al di sopra quindi top questi due quindi appunto vanno catalizzati in lampada mi raccomando e poi infine mi hanno inviato questi semi permanenti sempre però sono semplicemente stamping quindi sono semi permanenti per stamping non sono per trasferimento foil e vi faccio vedere SGP02 infatti questi se vedete i nomi sono completamente diversi questi qui hanno la sigla SGP e abbiamo questo grigio appunto grey e infine abbiamo SGP05 sì 05 pink molto molto bello questo è un rosa acceso bellissimo nella fotocamera sembra ancora ancora più acceso però lo è lo è ma nella fotocamera troppo acceso e infine abbiamo le piastrine eccole qua me ne hanno bandate ben sei abbiamo la green leaves 2 la numero 97 la lace love 3 numero 96 la stamp punk non so se si legge così la numero 92 poi tattoo la numero 34 le ultime due sono norcas garden la numero 75 la metropolitan la 62 andiamola a vedere una per una abbiamo la norcas garden qui sono disegnati tutti questi fiori wow bellissimo questo dove la andiamo a stampare così grande vabbè presumo che se ne vada a scegliere un pezzettino e a trasferire sull'unghia guardate che bella questa sorta di margherita wow questa anche mi piacciono molto quelle che hanno le foglie all'ingiù bellissima poi abbiamo un metropolitan che è caratteristica delle città quindi mappe strade macchine guardate questi con tutti gli ingranaggi e anche i quadri per delle macchine insomma quelli che troviamo dietro il manubrio bellissima guardate qua addirittura c'è tutto il il paesaggio questo qui è dovrebbe city life bellissima questa molto molto carina poi abbiamo questa qua tema tatuaggi infatti sono sì sono molto simili ai tatuaggi che vediamo di solito molto carina anche questa poi stampa anche questa sono curiosa anch'io ecco qui anche ci sono degli ingranaggi ci sono delle texture particolari guardate questa quant'è carina belle queste chiavi stupende queste me le vorrò fare sicuramente wow questo è un dipinto praticamente wow guardate questa dovrebbe essere una libellula una cicala molto molto carina questa molto bella ah questa la vorrò provare tutti questi cuoricini molto semplici poi abbiamo lace love wow queste qui sono tutte sorte di di pizzo di ghirigori per quanto riguarda tipo centrini ecco non mi veniva comunque si effetto pizzo di qualsiasi genere bello 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 questo e poi abbiamo la green leaves 2 che ha tutte queste foglie foglie e qualche fiorellino questa è molto semplice ma d'effetto carina per dei decori molto molto veloci questa sicuramente sarà la prima che andremo a provare quindi niente ragazze ah no il treni hanno inviato questo spray che è il plate cleaner che è praticamente uno spray che va spruzzato al di sopra della piastra e poi con un tovagliolo va pulita perché questo cioè il prodotto in sé per sé semi permanente smalto se va a finire nelle fessure del decoro va a finire che non non viene trasferito più bene sullo stampino quindi va fatta una pulizia approfondita appunto con questo spray che onestamente non so se profumi beh ha un odorino vediamo un attimo buono profuma forse un po' di fragola comunque questo qui serve appunto per andare a pulire le piastre allora fatemi vedere se non ho dimenticato di farvi vedere qualcosa ma io dico che è tutto ok allora questi erano tutti i prodottini che mi sono stati inviati dall'azienda dal negozio nel shop in beauty io vi invito ad andare a acquistare sul sito il sito in questione è www.nelshopcesena.it e alla fine del carrello una volta raggiunti i 70 euro di spesa avrete sia le spedizioni gratuite sia potete applicare il mio codice sconto che è barbara20 e quindi avere il 20% di sconto io vi sarò grata nel caso in cui voi facciate un ordine mi raccomando magari taggatemi su instagram oppure magari scrivetemi qui sotto e fatemi sapere se avete aderito a questa offerta perché appunto il 20% di sconto è tantissimo specialmente per i prodotti moira e poi comunque sul sito trovate tantissime altre cose come gel costruttori insomma che ne ho sentito parlare molto molto bene chissà se avrò anche io l'occasione di provarli il pacco arriva imballato veramente molto molto bene infatti ci sono stata forse mezz'ora e ho qui una marea di carte proprio perché era imballato molto molto bene tutto accuratamente e arriva il tutto a casa nel giro di 48 ore quindi la spedizione è anche molto molto veloce io non vedo l'ora di provare questi prodottini con voi magari giù nell'info box scrivetemi tranquillamente cosa volete che io provi per prima magari se gli stamping magari semi permanenti oppure il glitter le polveri le polveri comunque sono una cosa spettacolare niente ragazze io spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto di compagnia e niente vi mando un grosso bacio venitemi a seguire su instagram perché farò vedere questi prodottini molto molto spesso e niente vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo ciao 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 Grazie.